Benvenuti! Oggi siamo in giro all'inseguimento del tram Olympus. Dovremmo fare delle riprese in movimento e le faremo con questo, il gimbal Feiyu Tech A2000 con la doppia impugnatura. Sopra abbiamo montato la nostra fedelissima Olympus M1 Mark II con un 714. Vediamo come si comporta. Grazie per la visione!